E' una simulazione sicuramente d'impatto, ci sono dei momenti in cui ti chiedi se hai fatto tutto giusto perché ti rendi conto che un gesto può salvarti la vita. Ho ripensato a quando ho fatto scuola guida e alle attenzioni che sono state le raccomandazioni degli adulti e di chi mi ha insegnato e devo dire che per un momento ho avuto anche un po' di paura pensando che la cintura non avrebbe tenuto. E invece tiene, incredibilmente tiene ed è una sensazione di protezione che forse bisogna provare per rendersi conto di quanto è importante. Un'iniziativa importante perché sensibilizza i giovani ma non solo essere attenti quando si guida è importante grazie ad ANPAS e grazie alla Polizia di Stato per il lavoro che fanno anche in termini di prevenzione. Un ringraziamento sentito agli organizzatori di questa manifestazione che ci aiuta a comprendere quali sono i rischi per gli utenti della strada e quanto sia importante la sicurezza stradale. Ho avuto modo di vedere con i miei occhi cosa succede durante l'impatto e devo essere onesto, mi rimane in scioccato soprattutto sotto il tetto dei bambini quindi molta, molta prudenza quando si guida perché è fondamentale. Per allacciarsi sempre le cinture anche dietro è molta prudenza rispetto ai bambini che è fondamentale. Un'iniziativa che vuole raggiungere tutti, in particolare il pubblico dei giovani che si avvicinano per la prima volta o per le prime volte alla guida ed è un momento molto prezioso per imparare come guidare bene e soprattutto come essere sicuri alla guida. Io guido bene, guida per bene. Guida per bene. E in strada non distrarsi e guida per bene. 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 Viper. Quest'ideari ma reale. Cause'acia. Grazie a tutti. Grazie a tutti